Emporia Elegance Quindi lo spacchettamento di questo Emporia Elegance Al tempo vi fu mostrato come spacchettamento, recensione e quant'altro un cellulare a conchiglia Adesso vediamo cosa c'è all'interno della confezione Troviamo quindi manuale, altro manuale Cellulare, notate appunto l'ordine e la piacevolezza della confezione stessa Vediamo cos'altro è contenuto Cominciamo a popolare la nostra immagine così nel frattempo riuscite ad apprezzare il tutto Vediamo cos'altro è contenuto Batteria E carica batteria Vediamo Finisce con uno spinottino Vediamo ora di farvelo apprezzare Così da farvi rendere conto il tipo appunto di connessione È confrontabile con il jack da 3.5 mm per capirci Quello delle cuffiette Questo è ciò che vi arriva all'interno della confezione Sarà da noi messa in funzione Se vedremo appunto batteria sim Realizzeremo il solito filmatino veloce appunto su come si inserisce sim batterie Come si procede alla prima accensione Dopo che appunto vedremo un attimo come si comporta E galleria fotografica, recensione e quant'altro Arriveranno a stretto giro di posta La demo si conclude così Non c'è altro da mostrarvi Io quindi vi ringrazio dell'attenzione Vi saluto Vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info E i relativi canali social che abbiamo attivato per voi Siamo su Twitter, Facebook, Youtube e Dailymotion Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi E tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi Ora è tutto Un saluto Ci si vede online A presto da Giuseppe Ragazzino Grazie a tutti